Sapevate che a Roma c'è un evento speciale di Natale? Chiamiamo a Christmas World e si trova a Villa Borghese. 60.000 metri quadri di puro divertimento. Qui possiamo trovare 8 città del mondo. Parigi, Londra, Roma, Delhi, Berlino, New York, Tokyo e Lappogno. E soprattutto la fabbrica di Willy Wonka, dove potete acquistare tanti dolcetti. Tanto cibo tipico da assaggiare e la sera diventerà ancora più bello e magico. Con tante illuminazioni e spettacoli da vedere. Un'atmosfera natalizia stupenda. Per entrato in Lappogno potete creare il vostro peluche personalizzato. Nella fabbrica di Teddy. Qui tra tante peluche lo scegliete uno da riempire. Io ho scelto il lumino di pal di zanzero femmina. Ci ho messo tante imbottiture ed è venuto stupendo. E come non potevo farmi il trucco a bimbi. E indovinate di cosa mi sono truccata? Una renna. E c'è anche una pista di ghiaccio grandissima. Veniteci. Ciao! Ciao!